Marina Vergolesi, appena eletta presidente dell'Asp, che impressioni hai per questa nuova notizia che è arrivata? Già era vicepresidentessa adesso con questa notizia. Beh, non è una sorpresa. Abbiamo lavorato molto bene con il vecchio direttivo, ci siamo resi conto che avevamo bisogno comunque di un cambio di passo e quindi abbiamo organizzato questa assemblea ordinaria e straordinaria per mettere una serie di punti e con l'occasione abbiamo fatto, mantenendo quelli che erano i riferimenti precedenti, abbiamo fatto questo cambio tra me e Cosimi. Cosimi è diventato vicepresidente e io ho assunto questa presidenza con molto coraggio, direi. Sono tanti i temi che dovrà affrontare già nelle prossime settimane, per cui ci sarà tanto lavoro? Sì, sono tanti, però il nostro direttivo si è dotato di persone preparate che hanno tutta l'intenzione di far cambiare passo a questa società e farla tornare a quello che era un tempo, un punto di riferimento non solo sportivo ma anche sociale. E in questa ottica abbiamo inserito nel nostro organico la dottoressa Mina Marano che si occuperà proprio di sociale, quindi si ti involle, i problemi relativi a persone con disabilità, insomma è una persona molto preparata. Poi abbiamo tirato dentro Patrizio Stefanini strappandolo alla sua vocazione da giocatore per fargli fare il direttore sportivo. Abbiamo tirato dentro Adriano Amoni, ragazzo molto preparato, molto disponibile e soprattutto coordinerà un pool di persone che si occuperà di comunicazione. Insomma ci stiamo svecchiando, ecco. L'altra nuova entrata non è una nuova entrata, è una riconferma. Ma diciamo è tornato a casa Giancarlo De Gennaro perché in questa ottica il processo di riappropriazione di questo ruolo sportivo passa anche attraverso il direttore tecnico. Quale sarà il primo atto di questo nuovo direttivo? Il primo atto è un atto importante. La specificità sta inviando un comunicato a tutti per la rinunciamo all'obbligo del vincolo sportivo che significa poter dare a tutti la possibilità di fare un'esperienza in ASP e poi andare da un'altra parte. È una cosa importantissima perché il vincolo sportivo che si firma intorno ai 12-13 anni vale per 10 anni. Quindi stiamo dicendo a tutti non ci sono più limitazioni, potete venire da noi fare la vostra esperienza e poi andare dove potete trovare la vostra collocazione. Grazie.